Ragazzi davanti abbiamo il deserto, ma dietro abbiamo due smart che bloccano tutto, un camion e gli altri camion fermi. Noi qui ce la stiamo mettendo tutta. Signori abbiamo cominciato da Francavilla verso Pescara Ovest, 15 e 17. Già stiamo facendo smadonnare un po' di camionisti dietro di noi. Siamo io e Alessandra, veniteci a dare una mano per piacere, fateci un in bocca al lupo, aiutateci in qualche modo. Più siamo meglio è, dai! Siamo in due macchine, abbiamo bloccato l'ingresso di Varese, anzi l'uscita di Varese. Guardate che fila! Questo è il nostro eroe sull'SP40. No Green Pass. Ha fatto tutta la statale a 30 all'ora, ha fatto davvero un botto di coda, adesso sono riuscito a raggiungerlo. Dai ragazzi! Non fermi, fermi completi, davanti niente, qua dietro il delirio, tutti fermi, tutti fermi. Non abbiamo il Green Pass, non va! Ci sono i camion, grandi! Ci hanno bloccato e questa è la coda, ci sono quattro camion che si sono messi davanti, protesta e no Green Pass c'è, fate girare il video c'è, chilometri di coda. La polizia che cerca di raggiungere ma non riesce, quindi condividete! Ci siamo, no Green Pass! Noi qua rallentiamo tutto, ce ne sbattiamo il c***o! A posto, l'abbiamo a occupare tutte e tre! Meraviglia! Meraviglia!